Covid-19, oscillante il trend dei contagi, si è la cusa stabile in Sicilia per numero di casi. Sono 6.905 e 9 casi di Covid-19 registrati a fronte di 32.125 tamponi processati in Sicilia, secondo il bollettino odierno. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.178, il tasso di positività scende al 21,5%, il giorno precedente era al 23%. La Sicilia è al settimo posto per contagi, gli attuali positivi sono 144.858 con un aumento di 3.381 casi, i guariti sono 5.062, mentre si registrano 21 vittime che portano il totale dei decessi a 11.380. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1.076, 25 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 55, 4 in più rispetto al giorno prima. Per quanto concerne il numero dei contagi, a livello provinciale si registrano a Palermo 1.607 casi, a Catania 1.472, a Messina 1.326, a Enna 870, ad Agrigento 824, a Siracusa 740, a Trapani 705, a Ragusa 510, a Caltanissetta 410.